Un ottimo esordio, come diceva il collega Toscano sulla panchina, un punto importante, una partita importantissima per voi e per la Maceratesi. È stato un punto importante perché la partita richiedeva determinate caratteristiche oggi perché è su un campo difficile contro una squadra che ha dei valori importanti. Bisognava stare molto attenti, cercare di sfruttare le occasioni che sarebbero capitate. Siamo molto contenti per come hanno interpretato la gara i nostri ragazzi. Due nel primo tempo, anche se è un frutto di qualche incertezza difensiva della Maceratesi, e poi nel finale quella di Varella che ha tirato il primo paro. Sì, noi siamo stati a corti in difesa, attenti con le linee dei reparti. Volevamo sfruttare quelle occasioni che sarebbero arrivate. Noi ci siamo riusciti per un motivo o per un altro, però questo fa parte del gioco. Era importante arrivarci e impensierire in qualche modo. Ecco, si è avuta sempre l'impressione, anche se nel primo tempo avete fatto più il gioco, la partita, di un Pisa, che era abbastanza tranquillo sul fatto, come diceva appunto, è stato già detto, due risultati su tre. Il pareggio andava benissimo. Quindi quasi che lo spingesse i piedi fino in fuoco. Non era neanche tanto per la classifica, era tanto per il rispetto che avevamo dei nostri avversari, perché sapevamo che avevano e hanno determinate caratteristiche, bisognava stare attenti nell'equilibrio della squadra. E non dare profondità. E non dare profondità. Diverteggio. Esattamente. Adesso.